Buonasera a tutti ragazzi ci troviamo nella chiesa di Stamica da Cangelo a un po' di campani più la lampana a corda, faccio i campanoni, questa è la lampana a corda su tutto qua in tempo e vedete queste campane ora andiamo a qui il canale, quindi resta da un altro panale di notte e vorrà spostato il video, ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.